Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto, continuiamo a incontrare i consiglieri che faranno parte dell'Assemblea dell'emiciclo in questa dodicesima legislatura, confermatissimo, più votato a Pescara, quasi 10.000 preferenze, ospite nei nostri studi, Antonio Blasioli del Partito Democratico. Buonasera Blasioli. Buonasera a voi. Allora, Blasioli che ha rappresentato uno dei punti fermi di un risultato molto positivo del centrosinistra allargato e del Partito Democratico, in particolare a Pescara Città, nella circoscrizione di Pescara, purtroppo però Blasioli per voi in una elezione che non ha raggiunto il risultato principale, quello di far vincere Luciano D'Amico. Ora sono passate due settimane dall'espressione di voto degli abruzzesi, avete già fatto riunioni all'interno del partito, della coalizione, però più a freddo anche leggendo i risultati. Che cosa è mancato per ribaltare l'amministrazione Marsiglio anche nel giudizio degli abruzzesi, secondo lei? Ma intanto dobbiamo dire che queste due settimane di tempo ci hanno permesso un po' di fare un'analisi a freddo di quello che è successo in queste elezioni regionali in cui per la prima volta l'amministrazione uscente viene riconfermata. Abituati a guardare con attenzione al voto democratico, dobbiamo prendere atto che questa scelta è la scelta della regione Abruzzo, anche se un pochino diversa e in controtendenza tra le aree della costa e le altre aree interne di questa regione. E tuttavia viene confermato il presidente Marsiglio in un momento in cui gran parte degli abruzzesi avevano chiesto un cambiamento, una modifica di questo governo regionale. Noi lo sentivamo molto vivo anche all'interno della città di Pescara e nella nostra provincia dove il Partito Democratico è andato molto molto bene. Dal punto di vista delle singole candidature si è detto nell'analisi da più parti che il centrodestra aveva dei candidati molto legati al territorio. Questo è avvenuto però anche in casa d'amico perché ci sono stati casi proprio come il suo di candidati che hanno ricevuto grande consenso. Che cosa fa la differenza? Lei ha fatto tante campagne elettorali un po' rispetto a questo meccanismo elettorale che è un po' più vicino a quello delle comunali rispetto alle consultazioni di tipo politico. cioè il lavorare casa per casa e ottenere voto per voto il consenso dei propri elettori. Lei ha fatto una campagna elettorale che praticamente è durata cinque anni. In tanti nella sua coalizione probabilmente no. Devo dire che il risultato del Partito Democratico, che è un risultato molto importante soprattutto nella città di Pescara dove portiamo a casa il 28,43%, voglio ricordare che nelle politiche del settembre 2022 a Pescara Città esprimeva una percentuale del PD intorno al 19%, quindi parliamo di circa 10 punti percentuali in più. Questo non è un risultato di un singolo candidato, ma è il risultato di una squadra di candidati ben assortita. Diciamo che abbiamo avuto anche delle critiche per come era stata composta la lista del Partito Democratico in provincia di Pescara, invece il risultato elettorale ha dimostrato tutt'altro, cioè che c'è stato un radicamento territoriale, che tutti i territori sono stati rappresentati. Forse qualcosa di più poteva esserci per quanto riguarda l'area vestina, ma sicuramente il risultato è molto, molto importante. Voglio ricordare che sono 10 punti in più rispetto a settembre 2022, parliamo delle politiche, le regionali è vero che sono un voto molto simile a quelle delle comunali, con voto di preferenza, con liste, con candidati che corrono, ma è altrettanto vero che sono le elezioni comunque politiche molto vicine a quelle del settembre 2022. Devo dire anche il risultato della provincia è un risultato molto importante, il PD supera il 24%, quindi veramente primo partito, un risultato veramente importante anche in provincia di Pescara, rimane da colmare un pochino il vuoto nell'area vestina. Brazioni, soprattutto per quello che è accaduto dopo il voto in Abruzzo, anche tra i leader nazionali, in particolare mi riferisco alle dichiarazioni incrociate che sono immediatamente ripartite dopo la tornata elettorale regionale tra Conte, Calenda e Renzi, non era probabilmente e questi in molti lo stanno dicendo all'interno del centro-sinistra, forse è più importante mettere avanti di più il candidato che aveva una sua forza, una sua autorevolezza e che ha una sua forza e una autorevolezza come Luciano D'Amico rispetto a una coalizione che rappresentava un esperimento e che in effetti poi non ha retto alla prova di una compattezza. Devo dire che io faccio un'analisi in controtendenza rispetto alle voci, alle opinioni che si rincorrevano nelle ultime due settimane di questa campagna elettorale. Molti hanno sostenuto che il voto in Sardegna, questo combattimento nell'isola fosse positivo per la regione Abruzzo, in un certo senso ci ha portato alla ribalta delle TV nazionali, dei media nazionali, tutti quanti si sono trasferiti un po' in Abruzzo per vedere se questa onda lunga della Sardegna si potesse ripetere anche qui. A mio avviso questo non ha favorito l'Abruzzo, ma lo ha in centro-sinistra perlomeno, perché credo che noi avevamo sul territorio un candidato molto in gamba che è Luciano D'Amico, credo che come per l'elezione di Lenini nel 2019 sia un'occasione persa per gli abruzzesi, questa volta anche più grave perché è la seconda, credo che questo civico ma politico avesse fatto veramente un grandissimo lavoro costruendo lui un vero campo largo a suo sostegno, a sostegno delle ragioni dell'Abruzzo e credo che se i temi fossero rimasti più locali con una campagna elettorale fatta più sul territorio, su quella che è la nuova idea di Abruzzo che noi proponevamo, probabilmente noi l'avremmo preso qualche puntarello in più di percentuale. Ecco, mi sembra un'analisi abbastanza condivisibile credo da parte di tutti e soprattutto che apre una prospettiva rispetto al futuro, perché lei ha detto giustamente questo civico ma politico, ecco adesso si tratta, glielo chiedevamo anche in campagna elettorale da parte di Luciano D'Amico di fare anche un ulteriore salto di qualità, quello di esercitare non soltanto in una competizione elettorale ma in una pratica continua della politica, dell'attività, in questo caso di opposizione in Consiglio regionale, una leadership politica. Ci sarà questo salto di qualità e farà bene questo alla vostra coalizione? Sono convinto che ci sarà e che farà molto bene sia la nostra coalizione ma i tutti i lavori d'aula del Consiglio regionale. Luciano D'Amico sicuramente è una persona molto preparata anche da un punto di vista politico, voglio ricordare che è stato il Presidente di Tua, il Rettore dell'Università, quindi è una persona che comunque pur non ricoprendo un ruolo squisitamente istituzionale, è una persona che ha un background politico capace di reggere un'aula consigliare in regione. Sono convinto che ci darà una grossa mano anche ad elevarci su alcune tematiche che dobbiamo toccare in questi cinque anni, sono convinto che farà un'opposizione costruttiva ma soprattutto che sarà la garanzia e la sintesi di tutte le forze del centro-sinistra. Ecco, siccome lei vi ha appena detto di essere stato molto prudente nel commentare il risultato del successo in Sardegna, ecco questo risultato del centro-sinistra e del Partito Democratico a Pescara Città, secondo lei è un motivo di esultanza o sicuramente di incoraggiamento per le prossime comunali, oppure c'è qualche riflessione da fare anche alla luce del sondaggio che abbiamo visto di Antonio Noto che abbiamo visto in questi ultimi giorni? Intanto dobbiamo dire che venivamo da una serie di annualità dal 2019 fino ad oggi in cui il Partito Democratico non sfondava la soglia del 20%, oggi a Pescara portiamo a casa il 28,43% che è un risultato veramente molto molto importante e il 24% in provincia che è un risultato altrettanto importante, quindi dobbiamo assolutamente esultare per questo risultato perché è frutto di un lavoro, di una buona composizione delle liste in cui hanno partecipato attivamente anche le segreterie provinciali e comunali del Partito Democratico e l'augurio è quello che nelle prossime elezioni comunali che ormai ci saranno tra due mesi e mezzo si possa ricomporre una lista che copi un pochino le peculiarità della lista regionale. Per quanto riguarda la sfida di Carlo Costantini a Carlo Masci abbiamo visto che c'è questa differenza ancora a favore del candidato di centrodestra, sindaco Uscente, voi avete fatto tante battaglie soprattutto negli ultimi mesi su temi che hanno un po' chiamato a interrogarsi la città su come abbia amministrato Carlo Masci, via Marconi, il tema delle multe, se vogliamo anche l'enaia di ora l'ultima vicenda del teatro d'annunzio, voi pensate che siano sufficienti questi argomenti di denunciata parte vostra incapacità amministrativa oppure ci sia bisogno anche di una proposta costruttiva per la città? No, non si vince soltanto sulla sconfitta dell'avversario, si vince perché c'è una nuova proposta di città, io sono convinto che Carlo Costantini la rappresenterà nel migliore dei modi, sta lavorando anche a dei tavoli sul programma molto partecipati e molto aperti e sono convinto un po' che replicare il metodo di Luciano D'Amico sia importante anche per le comunali di Pescara, detto questo è evidente che c'è stato un fallimento della giunta Masci nell'amministrazione di questi 5 anni e se devo dire il sentiment che percepiscono nella città di Pescara, che l'ho percepito durante le elezioni regionali parlando con le persone, con le famiglie, con i portatori di interessi, con le associazioni, c'è un giudizio molto negativo nei confronti dell'amministrazione Masci, questo però non è sufficiente, occorre naturalmente costruire un'alternativa credibile in città e non avremo grandi difficoltà. Non basta Costantini, dunque servono anche liste forti perché c'è bisogno, a Pescara c'è anche il voto disgiunto, quindi sì certo il candidato sindaco è importante, però c'è bisogno di una piena rappresentanza di tutte le aree della città e anche di tutte le categorie, ecco da questo punto di vista il Partito Democratico ha qualche sorpresa in lista, diciamo che sostanzialmente è stata già annunciata quella della presenza di Luciano D'Alfonso, ma ci sarà anche qualche altra sorpresa? Intanto credo che la candidatura di Luciano D'Alfonso sia una candidatura importante per la città di Pescara, non soltanto in termini elettorali, ma anche per quello che potrà fare nei tre anni che ci separano fino alla nuova Pescara, sono convinto che Carlo Costantini gli chiederà di candidarsi e sono veramente molto felice che ad affiancare Luciano D'Alfonso ci siano tanti consiglieri comunali che hanno ben lavorato nel corso di questi cinque anni, ma anche tanti giovani che si vogliono misurare con il governo cittadino, insomma un assemblaggio capace di tenere insieme esperienza, forze attuali e forze nuove, credo che sia il mix vincente per le comunali di Pescara. In questi tre anni più in generale, al di là di chi vincerà le comunali tra un paio di mesi, quale sarà il ruolo di Antonio Blasioli in regione a supporto della nascita della nuova città? Intanto dobbiamo dire che quando si è discusso in una stagione dell'ultimo Consiglio regionale sulla nuova legge, sulla nuova Pescara che rinviava la nascita al 2027, oggi siamo nel 2024 e la nuova Pescara doveva essere già operativa tra questi tre comuni, noi abbiamo fatto in modo che questi tre anni si riempissero di contenuti, perché vorremmo evitare che ci siano nuove proroghe, il che assolutamente non è improbabile, anzi bisogna stare molto attenti su questo, quindi dovremmo costruire questa nuova città con grande attenzione ai tre territori che la comporranno. Pescara, prima lei diceva un po' le pecche dell'amministrazione Masci, sentendole enunciare in ciascuna di questi ho lavorato tantissimo in questi cinque anni, la stessa cosa dovremmo fare anche su Monti Silvano e Sportore e farci trovare pronto insieme naturalmente all'apparato amministrativo del Comune di Pescara che so essere già al lavoro sulla nuova Pescara perché il 2027 sia una data non più rinviabile. Siccome lei è stato bollato da tutti come uccello del malaugurio, le chiedo quando riapriranno le naia di? Non sono un uccello del malaugurio, sono una persona che legge le carte e che dice quello che legge, io credo che probabilmente per fine aprile rivedremo le naia di aperte, però mi consenta anche di dire una cosa, in questa gestione provvisoria che deriva dalla decisione della Procura e quindi dall'autotutela di Ariacom nella Regione Abruzzo avremo una gestione di sei mesi, prorogabile al massimo per altri sei mesi a carico di fira, cioè della finanziaria regionale. Per la gestione provvisoria di un anno è stato impiegato già quattro mesi per far partire la gestione. Mi sembra veramente un tempo non in linea con le esigenze di Pescara e di Monti Silvano, con tantissimi atleti costretti ad andare fuori Pescara per allenarsi anche in orari piuttosto improbabili per persone che vanno pure a scuola e con spese soprattutto per le famiglie. Spero che la data di fine aprile sia una data che venga rispettata da parte di Fira, so che Fira ci sta lavorando, che ha emesso anche l'avviso per gli spazi acqua, speriamo di cogliere almeno questo risultato. Che cosa invece c'è da dire sul cronoprogramma di opere importanti per la città come i lavori al porto che hanno avuto qualche momento di stop e poi sono ripresi e quelli relativi alla pista dell'aeroporto che hanno avuto anche loro qualche momento di polemica? Mi verrebbe da dire che occorre una campagna elettorale per ogni mese per vedere gli operai al lavoro. Devo dire che nel corso di questi due o tre mesi sono stati presentati tanti di quei lavori e poi i cantieri sono evidentemente fermi, il che significa che forse le ditte non erano pronti e che si è utilizzato soltanto quel lavoro per fare un po' di campagna elettorale. Assieme a questo io aggiungerei anche la problematica dell'area di risulta, su cui a breve dovrebbe partire la bonifica che è l'operazione preliminare a vedere sistemata quell'area dopo tantissimi anni nella città di Pescara. Ebbene su questo voglio dire che forse il tempo scelto non è adeguato perché si perderanno tantissimi posti auto all'interno dell'area di risulta, tra aprile e giugno non credo che sia il tempo migliore per perdere questi posti. A proposito di bonifiche, visto che è stato Presidente della Commissione, a Bussi tutto in regola? Non ci sono preoccupazioni ulteriori? A Bussi tutto come al solito, tutto fermo in attesa che questo raggruppamento temporaneo di imprese faccia una nuova caratterizzazione. Voglio dire che Marsilio e gli esponenti di centrodestra avevano annunciato la bonifica già per due anni fa, che doveva cominciare due anni fa siamo veramente molto molto lontani e soprattutto la provvista economica stanziata con la legge 10 del 2011, firma del senatore Marini, di Giovanni Lenini, è una somma che forse non sarà più sufficiente. Il 7 febbraio è venuto in Abruzzo la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, a firmare i nuovi fondi della programmazione 2021-2027, ci saremmo aspettati che parte di quei soldi fossero stati convogliati per eseguire per intero la bonifica delle 2A e le 2B. Non c'è traccia invece di questo, come non c'è traccia di l'utilizzo di quei soldi per rimettere a norma tutto l'impianto delle NAIAD. Ultima domanda relativa a quanto abbiamo letto questa mattina, sempre molto precisi e interessanti retroscena di Lorenzo Colantonio sul centro, lei è considerato uno dei pontieri del centro-sinistra, di Luciano D'Amico, nelle trattative che adesso porteranno i nuovi assetti anche istituzionali del Consiglio regionale. A lei farebbe piacere avere un incarico di tipo istituzionale, appunto faceva riferimento a quello della Presidenza della Commissione su Bussi, nuovamente anche in questa consigliatura, anche alla luce della sua esperienza, anche delle sue, penso riconosciute da tutti, competenze di tipo giuridico? Io sono a disposizione del partito e della coalizione, sono a disposizione anche di Luciano D'Amico in questi 5 anni. Certo vengo da un'esperienza degli ultimi 5 anni e mi piacerebbe metterla a frutto, sapendo che sono l'unico, uno dei pochi, che potrà ambire anche alla terza consigliatura, non è possibile per tanti altri consiglieri che costituiranno il gruppo del Partito Democratico, però sono a disposizione. Tendo conto di una cosa, che sono comunque un dipendente regionale dell'Avvocatura regionale e quindi sono un pochino facilitato anche nella lettura di tutto quello che avviene in Consiglio regionale e in Giunta regionale, quindi il mio ruolo può essere speso su diversi ambiti, su diversi aspetti, sono a disposizione, sono un grandissimo lavoratore per il territorio. E questo penso che l'abbiano almeno 10.000 persone riconosciute nel suo collegio. Grazie Antonio Binalzo, il più votato nella circoscrizione di Pescara, c'è un bel risultato per il Partito Democratico in attesa delle comunali, una chiacchierata a tutto tondo, che naturalmente si ripeterà anche domani alla stessa ora con un altro consigliere o un'altra consigliera regionale eletta per la dodicesima legislatura. Grazie, a domani alla stessa ora. Buona serata.